Col PD solo nel mese di luglio di quest'anno ci sono stati quasi 14.000 sbarchi. Con la Lega Alviminale in tutto il 2019 gli sbarchi furono solo 11.400. Da ministro ho dimostrato che fermare l'immigrazione clandestina è possibile. L'immigrazione è positiva solo se è legale e controllata. Tutti gli altri promettono, noi lo abbiamo già fatto. Credo nella difesa dell'Italia. Domenica 25 settembre dalle 7 alle 23 vota Lega.